Il Vangelo di questa domenica Gesù sottolinea quanto sia importante tutelarsi, ma non tanto per quel che concerne il corpo, perché può essere pure che venga ucciso questo corpo, che possa uccidere il corpo, ma l'anima rimane nella sua integrità e soprattutto è l'anima che vale, l'anima che permane. L'anima che agisce e l'anima che va anche tutelata, la sede di Dio che in ciascuno di noi, che nella nostra anima va pagata, va pagata anche con questo impegno di testimonianza, perché ognuno di noi è chiamato in virtù del Vangelo ad essere testimone del Vangelo e questo non significa che non si debba dare incontro anche a delle difficoltà. A riguardo Papa Francesco soleva dire, ma mi recentemente ha ribadito, che non è che essere cristiani significa stare a un certo punto in una sala da te a prendere dei biscottini, con semplicità e con tanta serenità. Ma occorre mettere in conto tutto questo. Però anche se potrebbero ucciderci, anche se potrebbero perseguirci e farci del male, non potranno mai intaccare quell'animo che il Signore ha posto di noi, quel dono dello Spirito che è in ciascuno di noi, quella capacità che ognuno di noi ha di rimanere vivo agli occhi di Dio e agli occhi degli altri. Quella capacità anche di rischiarare le tenebre, di essere luce gli uni per gli altri. A riguardo Don Antonio Bello soleva dire, il Signore verrà e verranno infrante quelle tombe nelle quali sono stati posti tutti coloro che perseguitati si sono ritrovati emarginati, che tutti vittime di violenza, della ingiustizia e dei siclusi i più forti verranno liberati dalle loro tombe, dalle loro emarginazioni, perché il Signore agisce anche attraverso il nostro operato, la nostra azione, la nostra testimonianza, il nostro apostolato, quello che siamo chiamati a fare appunto in quanto credenti. Buona domenica a tutti. Grazie a tutti.